Buongiorno a tutti, negli ultimi giorni abbiamo affrontato in maniera molto analitica seguendo percorsi diversi, testimonianze diverse dal diario di Puntoni al diario di Roatta ad altre analisi, pensiamo al volume Storia di un anno di Mussolini in cui ci vengono dipinte, ci vengono affrescate, potremmo dire immagini, sensazioni, stimoli, esigenze e priorità del settembre del 1943 in cui si entra sostanzialmente in un vortice di grande confusione, di grandi opportunità ma molto spesso opportunità colte male, colte tardi, colte sempre senza un intuito politico un intuito politico legato alla necessità di salvare la nazione, questo non sempre è stato colto e come abbiamo visto si è percorso, i vari protagonisti hanno percorso delle scelte la maggior parte delle volte dettate dalle imprudenze, dalle necessità quotidiane senza riuscire a capire in modo prospettico quello che sarebbe stato importante per la totalità o per la maggioranza del popolo italiano. Con l'occasione oggi ho deciso di allargare ancora di più l'analisi andando a prendere un testo ormai classico della storiografia militare, nello specifico la poterosa biografia di Badoglio scritta a quattro mani da Piero Pieri e Giorgio Rocià una biografia che risale ormai a circa 50 anni fa, siamo all'inizio degli anni 70 che appunto in qualche modo, questa è del 74 esatto, quindi diciamo siamo quasi 50 anni e ci offre un'analisi molto accurata, molto dettagliata, ormai sono passati tanti anni quindi diciamo la storiografia ovviamente si è evoluta nell'analisi del personaggio Badoglio e degli avvenimenti, dei grandi temi che hanno abbracciato la lunghissima vita e la lunghissima carriera di questo generale particolarmente controverso e particolarmente criticato sia a destra che a sinistra, diciamo che se uno dei slogan del fascismo era tanti nemici, tanto onore, sicuramente Badoglio in questo aveva tanto onore, non sempre però lo seppe utilizzare nelle scelte più prudenti possibili e all'interno di questo poderoso volume la prima parte è stata curata da Piero Pieri, la seconda parte è stata curata da Giorgio Rocià e mi sono soffermato sul capitolo ventesimo dal titolo Capo del Governo, il Regno del Sud settembre 1943-giugno 1944 e mi è sembrato interessante affrontare questo capitolo capitolo e nello specifico il primo paragrafo di questo capitolo sia l'isolamento di Badoglio che a mio avviso ha uno spiraglio molto acuto, molto interessante nella comprensione di cosa fece Badoglio, di cosa non fece Badoglio e del perché fece o non fece determinate azioni. Il capitolo precedente ovviamente si era dedicato, si era sviluppato nell'analisi ovviamente della preparazione dell'armistizio, dell'armistizio quindi con un dettagliato tratteggio di tutte le occasioni molto spesso mancate più che colte di quell'importante avvenimento. Ma andiamo a leggere proprio questo paragrafo dal titolo appunto l'isolamento di Badoglio. Dallo sbarco a Brindisi il 10 settembre 1943 alla liberazione di Roma il 4 giugno 1944, Badoglio fu capo del governo del cosiddetto Regno del Sud. Un'espressione un po' ironica e certamente diminutiva che è tuttora usata per ricordare le condizioni particolarissime di una compagine statale in cui tutto, dal territorio ai poteri alla stessa consistenza numerica del governo, era ridotto a dimensioni minime. Su questo periodo e questi problemi purtroppo anche la storiografia e la stessa memorialistica hanno uno sviluppo ridotto, tanto che le fonti anglo-americane vengono ad avere un ruolo predominante. Sappiamo che le cose sono ovviamente cambiate, vi sono stati numerosi studi nel frattempo in questo cinquantennio e quindi abbiamo un rafforzamento delle analisi, delle descrizioni di questo periodo. Il volume autobiografico di Badoglio in particolare è una fonte di scarsissima attendibilità, per i troppi silenzi, le reticenze calcolate, i falsi veri e propri che finiscono con l'infirmare anche le pagine più autentiche. Ci sembra comunque che le linee principali delle vicende del Regno del Sud emergano con sufficiente chiarezza anche dai non molti volumi utilizzabili e perciò tentiamo di indicare quale fu il ruolo di Badoglio e quale la politica che egli portò avanti nei nove mesi in cui fu ancora capo del governo dopo la proclamazione dell'armistizio. Il Regno del Sud partiva da una situazione fallimentare che andava certamente al di là di qualsiasi previsione. La flotta da guerra si era consegnata di buon ordine nelle mani dei vincitori, ma questo era tutto l'attivo del bilancio dell'8 settembre. L'aviazione si era praticamente dissolta, i piloti disponibili erano pochi e il materiale così antiquato che anche in seguito poté essere impiegato solo per i fornimenti alla guerriglia jugoslava. Lo sfacelo dell'esercito era totale, evidente e irreparabile. La presenza di quattro divisioni italiane in Puglia nei primi giorni dopo l'8 settembre non pareva neppure sufficiente a garantire brindisi da una puntata tedesca. Tutta l'organizzazione militare si rivelava inutilizzabile ai fini bellici, tanto che in ottobre le difficoltà per l'approntamento dei 5.000 uomini del raggruppamento motorizzato, un'utilità regolare che combatte con gli angloamericani nell'inverno, insieme appunto a Montelungo, che sarà appunto il riscatto e risveglio dell'esercito italiano, si rivelarono quasi insormontabili, malgrado l'importanza politica dell'iniziativa. Il territorio nazionale era occupato interamente dai tedeschi o dagli angloamericani. Il riconoscimento dell'autorità del governo di Badoglio su quattro province pugliesi fu poco più di una finzione giuridica. Lapsus Freudiano, visto appunto quello che dicevo, sostanzialmente erano di autorità militare alleata. Il territorio nazionale era occupato interamente dai tedeschi, i quali controllavano tutte le leve dell'attività economica delle banche e salari dalle industrie alle importazioni. Quindi vediamo come l'elemento importante dell'autorità, autorevolezza, imperio alleato. Le speranze dei comandi angloamericani di ricevere dagli italiani un consistente aiuto militare si erano rivelate illusorie, ove si escluda la consegna della flotta, perché la profondità della crisi dell'esercito italiano dimostrava chiaramente che le sue divisioni non avrebbero potuto aiutare i tedeschi come non avevano aiutato gli angloamericani. Si capisce perciò la durezza del primo giudizio di Eisenhower, 13 settembre. Qui cita Eisenhower. Gli italiani sono stati così deboli che abbiamo avuto poco o nessun aiuto pratico da loro. Comunque, quasi sulla base di un puro blef, abbiamo ottenuto la flotta italiana a Malta e grazie alla resa italiana siamo stati in grado di correre entro Taranto e Brindisi, ove nessun tedesco era presente. Le situazioni in Sardegna e in Corsica mostrano quanto di poco aiuto e inerti siano realmente gli italiani. In entrambi i posti essi disponevano di sufficiente forza per buttare a mare i tedeschi, invece, a quanto pare, essi non hanno fatto nulla. Non vi è stato nulla nell'effetto prodotto che somigliasse a quanto era nel regno delle possibilità. E quindi qui andiamo a capire l'altra faccia della medaglia, perché gli inglesi e gli americani hanno così poco credito, poca considerazione degli italiani e questo è un elemento che era tornato nelle pagine soprattutto di Roatta, il perché gli anglo-americani non davano possibilità di agire da parte degli italiani. E questo ho spiegato perché assolutamente non si fidavano, perché erano gli anglo-americani convinti che gli americani nulla valessero, perché nulla avevano fatto a cavallo dell'8 settembre, almeno sotto l'aspetto puramente strategico. Poi sappiamo come i lutti, i sacrifici vi furono, ma sono sostanzialmente poi improduttivi e questo è quello che interessava agli americani, non interessava il puro valore, l'eroismo. L'eroismo degli americani non fregava nulla, gli interessava cosa avete fatto, l'avete tenuto a Roma, l'avete tenuto la Sardegna, avete tenuto i Balcani, avete tenuto determinate province. Se la risposta fosse stata sì, allora gli italiani potevano valere qualcosa. Se invece gli italiani avevano fatto il minimo delle possibilità, allora a quel punto il credito che gli anglo-americani avrebbero potuto concedere sotto l'aspetto politico, militare ed economico nel riesame delle clausole della resa, diciamo che era da guadagnarsi giorno dopo giorno. Ma torniamo al passo di Rochard. Sul piano dei rapporti di forza, in sostanza, Badoglio e il Regno del Sud non avevano peso alcuno. Lo conferma il rapido declino di Ambrosio, numero due del gruppo dirigente a Roma, quando controllava le forze armate, ma rapidamente emarginato a Brindisi e infine sacrificato con Roatta alla campagna promossa dagli Jugoslavi che accusavano entrambi di atrocità criminose nella repressione antipartigiana in Croazia. Ciò che era più grave per il futuro del Regno del Sud, Badoglio non poteva contare sulla collaborazione di forze politiche organizzate perché lo schieramento conservatore era stato travolto dalla crisi del regime fascista, né sui centri di potere economico che avevano sede ed interessi nell'Italia centro-settentrionale e preferivano trattare direttamente con tedeschi e anglo-americani. Nel governo poteva appoggiarsi alla burocrazia statale, sconvolta anch'essa dagli avvenimenti e bisognosa di riorganizzazione. Per di più il re, che durante 45 giorni aveva dovuto accettare l'iniziativa politica del suo capo di governo, se ne dimostrava vie più insofferente a Brindisi, fino a tramare neanche troppo nascostamente alle spalle di Badoglio. Vittorio Emanuele, che aveva finito con l'identificare le sorti del paese e della stessa monarchia con le sue fortune personali, non si rendeva conto che la sua ventennale complicità col fascismo ne faceva un simbolo imbarazzante per i suoi stessi sostenitori e per i governi anglo-americani e si aggrappava perciò alle personità più squalificate, si vede la sua insistenza nel proporre l'ingresso del gerarca grandi nel governo, che avevano bisogno della sua copertura. Il diario del genere Puntoni, che rispecchia fedelmente gli umori degli ambienti di corte, ne attesta all'ostilità crescente contro Badoglio, accusato di tradire gli interessi della monarchia per ambizione personale. Queste parole di Rocha sono particolarmente severe, ma giuste nel definire, nel rappresentare le responsabilità attribuibili a Badoglio, ma anche attribuibili a Vittorio Emanuele III, perché sostanzialmente Badoglio ha agito nel modo in cui ha sempre agito, cioè non ci si deve stupire di una sua egoismo, di una sua brama di potere o brama di uscire fuori dalle sabbie mobili anche parzialmente create da lui stesso. E quindi in questo modo si evince come la scelta assai sbagliata, assai criticabile della nomina di Badoglio il 25 luglio, offre la grande spiegazione di quello che sarebbe accaduto nei 45 giorni e anche di quello che sarebbe avvenuto nei mesi successivi, per tutto il periodo in cui Badoglio continuò ad essere a capo del governo nel periodo di Brindisi. Un governo, come dice lo stesso Rocha, che non ha appoggio, non ha appoggio se non quello che gli angloamericani quotidianamente possono attribuirgli, ma un appoggio che non ha base democratica, perché non esiste più la democrazia, o quantomeno i partiti che si stanno un po' ricostituendo non vorrebbero appoggiare Badoglio, sappiamo come ci sarà una lunga gestazione fino ad arrivare alla nomina a Roma di Bonomi, quindi c'è tutto un percorso lunghissimo attraverso Salerno, quindi attraverso un percorso di grande approssimazione successive, che appunto renderà però instabile l'apparato politico e quindi l'apparato amministrativo e quindi l'apparato militare. Privo di appoggi, anzi straordinariamente debole ed isolato sul piano interno, Badoglio aveva dalla sua una carta sola, che però era quella vincente, l'interesse degli angloamericani a mantenerlo in carica come garante delle condizioni di armistizio e come capo di un governo fantoccio che si occupasse per loro conto della politica interna nelle regioni italiane occupate. Queste almeno erano le esigenze del comando di Eisenhower, che ebbe una parte di rilevo nella definizione della politica italiana degli alleati. I governi americani ed inglesi avevano anche prospettive di più largo respiro, ma in un primo tempo lasciarono un'iniziativa ad Eisenhower, che mise in piedi la macchina politico-militaria necessaria ad amministrare l'Italia. Ad Al-Hallied Military Government, il governo militare alleato responsabile per i territori occupati, fu sottratta la competenza sulle quattro province di Brindisi, Bari, Lecce e Taranto, che vennero lasciate sotto l'autorità formale del Regno del Sud. Di fatto il potere reale rimase nelle mani della nutritissima missione militare, più tardi commissione alleate di controllo, che agli ordini del generale Meso McFarlane, che abbiamo già abbondantemente trovato, citato nel diario di Roatta, fu affiancato al governo di Badoglio con compiti vastissimi e praticamente illimitati. Dopodiché il comando di Eisenhower fece firmare al governo Badoglio un primo accordo per l'impiego della flotta da guerra italiana, accordo Cunningham-de-Curten il 23 settembre, il cosiddetto armistizio lungo il 29 settembre a Malta, di cui abbiamo parlato, e un nuovo accordo che ampliava i diritti degli alleati sulla flotta italiana 17 novembre. Particolare valore politico aveva la firma dell'armistizio lungo che integrava le clausole militari dell'armistizio di Cassibile, con clausole politiche ed economiche, dure e dettagliate, con le quali gli anglo-americani si assicuravano l'assoluto controllo della vita associata in tutta l'Italia liberata. A queste richieste Badoglio non poteva né intendeva resistere, non solo perché gli anglo-americani avevano la forza per ottenere comunque quello che chiedevano, ma perché tutta la politica del maresciallo si incentrava sulla conservazione del rapporto privilegiato con gli alleati, che si era assicurato con la firma dell'armistizio. Sostanzialmente è un gioco degli inganni, però quello che poi viene ingannato è solo il popolo italiano. Badoglio chiese ed ottenne che l'armistizio lungo e gli accordi navali rimanessero segreti e più tardi alimentò la leggenda che la firma dell'armistizio lungo gli fosse stata estorta con la sorpresa, mentre invece il testo era stato portato a Roma il primo settembre dal generale Zanussi e poi discusso ed accettato a Brindisi. Quindi anche qui una serie di menzogne, una serie di macchinazioni da parte di Badoglio per cercare di rimanere il più puro possibile, anche se poi sappiamo che puro non era per nulla. Ottenne anche una modifica formale del testo dell'armistizio che eliminasse l'espressione di resa senza condizioni. Si tratta di piccole cose che confermano la disponibilità di Badoglio e il suo timore di trovarsi scoperto dinnanzi all'opinione pubblica. E questo è il vero obiettivo di Badoglio, quello di essere sempre presentabile, di avere una faccia presentabile di fronte a tutti, anche se poi alla fine a costo di nascondere la polvere sotto al tappeto. Una sola richiesta Badoglio aveva da fare agli angloamericani, che l'Italia fosse accettata come alleata con un miglioramento notevolissimo della sua posizione e un rafforzamento del suo governo. Se non che gli alleati non avevano alcuna intenzione di andare così là e la formula della cobelligeranza escociata a Eisenhower era il massimo cui erano disposti. E sarà un lunghissimo lavoro ai fianchi da parte di Messe nel cercare di rendere il più possibile attiva e fattiva la collaborazione militare italiana a partire appunto dal primo raggruppamento motorizzato, il corpo di liberazione e poi i gruppi di combattimento, non ultimi poi le unità ausiliari di cui abbiamo già parlato. Badoglio e Vittorio Emanuele si illusero per un momento di poter trattare, proponendo di scambiare la dichiarazione di guerra alla Germania, a cui gli alleati tenevano molto con il conseguimento di un'alleanza in piena regola. Sarà tarda, avverrà questa dichiarazione di guerra, abbiamo letto dalle carte, dai diario di Roata, che anche qui ci si arrivò con una certa timidezza, ma anche quello non fu sufficiente, quello non fu sufficiente neanche a salvare i poverimi da una agonia, da una prigionia che non era neanche prigionia, era schiavitù pure e semplice. Fu specialmente il re che non aveva capito quanto fosse mutata la situazione a dirigidirsi, spalleggiò da Acquarone ed Ambrosio. Badoglio in un primo tempo tentò di arroccarsi dietro la ostinazione di Vittorio Emanuele, poi dinnanzi al deciso atteggiamento degli angloamericani si assunse il compito di convincere il re a cedere. La dichiarazione di guerra fu comunicata alla Germania il 13 ottobre, cinque giorni più tardi i governi alleati riconobbero la co-beligeranza dell'Italia, cioè un'alleanza di fatto che però non pregiudicava il diritto dei vincitori ad esigere l'integrale applicazione delle condizioni di resa. Io aggiungerei per quale motivo avrebbero dovuto fare il contrario, visto che la Gran Bretagna era stata in guerra con l'Italia per oltre tre anni, la Francia seppur con delle nuove istituzioni comunque aveva subito l'attacco italiano e quindi da questo punto di vista gli Stati Uniti era un'altra cosa, era una guerra diversa, era una guerra anche legata alla forte componente di immigrati italiani, ma francesi e inglesi avrebbero sempre voluto far pagare il conto come l'avrebbero voluto far pagare i greci o i jugoslavi o addirittura i sovietici, quindi capite bene che era veramente impossibile poter pretendere di essere considerati alla pari con coloro i quali si era dichiarata la guerra e si era fatta la guerra per oltre tre anni. L'episodio che l'effetto di confermare ai comandi angloamericani che Badoglio più aperto e disponibile del re era l'uomo di cui avevano bisogno e quindi continua un po' questo gioco degli inganni. I loro governi non potevano però accettare che il regno del sud fosse retto soltanto da un re troppo compromesso col fascismo e da un pugno di generali per timore delle reazioni delle rispettive opinioni pubbliche e per una lungimirante esigenza di dare all'Italia un governo amico ma solido capace di stare in piedi anche senza le baionette straniere. E questo è ovvio perché se gli Stati Uniti e la Gran Bretagna avevano come obiettivo quello di una riaffermazione democratica di autodeterminazione era ovvio che dovevano comunque allargare inevitabilmente ai partiti antifascisti. La richiesta di un appliamento del governo Badoglio con il ricorso ad esponenti dell'antifascismo fu presentata dagli alleati a più riprese a partire dalla metà di settembre e in termini sempre più pressanti. Lo stesso Eisenhower si fece portavoce del desiderio del suo governo che Carlo Sforza, ministro degli esteri con Giolitti nel 1920-21 e poi rieusole antifascista di larga notorietà negli Stati Uniti potesse entrare nel governo Badoglio. Questa linea culminò con la dichiarazione resa a Mosca il 2 novembre dei ministri degli esteri americano, britannico e russo in cui la distruzione del fascismo veniva presentata come l'obiettivo della politica degli alleati in Italia ed era energicamente richiesto il ripristino delle libertà democratiche nel Regno del Sud e l'ampliamento del governo Badoglio con esponente antifascisti. Poi magari in un altro video avremo pure modo di leggere il testo di questi sette punti stilati a Mosca. Costretti ad entrare in un ordine di idee poco gradito, Badoglio e Vittorio Emanuele lavorarono ognuno per proprio conto e parzialmente alle spalle dell'altro. Entrambi ebbero cura di non rivolgersi ai partiti in corso di ricostituzione né al fronte nazionale d'azione di Bari che riusciva azionisti, comunisti e socialisti né al comitato di liberazione nazionale di Napoli costituito il 22 settembre sotto la presidenza del liberale Arangio Ruiz. Ma solo a persone singole come Croce, Sforza, De Nicola, Rodinò. Tutti questi sondaggi ripetuti da diverse persone nel corso di ottobre non ebbero successo perché anche gli esponenti dell'antifascismo moderato si dissero disposti ad accettare Badoglio ma non Vittorio Emanuele, di cui chiedevano l'abdicazione. Un convinto sostenitore dell'istituto monarchico, Benedetto Croce, riassumeva l'atteggiamento comune con queste parole nel suo diario del 10 ottobre. Dalle notizie ricevute e da documenti che ho visto ho tratto il convincimento che il re e il servitorame che lo circonda pensano alla salvazione della monarchia a mercè del sostegno che troverebbero nel grosso degli ex fascisti, che essa protegge come può affinché non siano molestati e conservino stipendi e prebende. Essa non chiede altro che la professione di fede monarchica e con questo accetta tutti, anche i comunisti. Credo che questo gioco che dovrebbe far passare sopra la condotta deplorevole tenuta dal re nel corso del fascismo non riuscirà ad ogni modo. Staremo vigili a sventarlo. Qui la punteggiatura è un po' assente. Scusate che ho avuto difficoltà nel leggere ma Benedetto Croce era un po' ballerino nella punteggiatura. Io ho sempre stimato la monarchia utile all'Italia ma non è colpa nostra se la monarchia dei Savoia ha perduto ogni prestigio come tutti sentono e dicono. Consapevole di questa situazione Badoglio con una lettera del 24 ottobre prudente nella forma ma dura nella sostanza chiese a Vittorio Emanuele di abdicare lasciando il trono non al figlio Umberto pure compromesso col fascismo ma al nipote sotto la reggenza dello stesso. Badoglio pensate un po' che faccia di bronzo. Badoglio ovviamente. La proposta che veniva da sforza mirava a rinsaldare il regno del sud e l'unione delle forze moderate e conservatrici. Permettemi di non essere d'accordo con sforza perché secondo me Badoglio c'è la faccia di bronzo nel essere ancora anche il reggente sotto dell'istituto monarchico dopo tutti i danni che aveva fatto. Badoglio se diamo la responsabilità a Vittorio Emanuele, a Umberto per le responsabilità nei confronti del fascismo Badoglio che è stato a cavallo dal 25 al 40 almeno dopo tutte anche altre cose che qui non stiamo a enarrare ma lasciamo un po' perdere. Qui secondo me sforza vuole cercare di trovare una soluzione nell'inconciliabile. Riteniamo pertanto che accettando questa prospettiva Badoglio fosse mosso da considerazioni politiche generali, ivi compresa la sua fede monarchica prima che i interessi personali. E su questo permettetemi di avere qualche dubbio, non sono d'accordo con Rocha. Senonché Vittorio Emanuele si irrigidì e convocò i capi militari per avere un appoggio contro Badoglio. Contemporaneamente cercava di sostituire il maresciallo con sforza o altra personalità moderata in modo da rinnovare la formula di governo salvando la sua persona. Questi tentativi cadono nel vuoto perché gli angloamericani, autentici padroni della situazione, davano la priorità al mantenimento in carica del binomio Vittorio Emanuele e Badoglio rispetto all'esigenza di ampliare le basi del loro governo. Perché sostanzialmente si annientavano a vicenda Vittorio Emanuele e Badoglio. Badoglio che se ne rendeva conto disse esplicitamente a Croce Sforza in un incontro a Napoli il 31 ottobre di non poter forzare la mano al re e tornò ad insistere affinché gli antifascisti moderati accettassero la situazione. E invece man mano che la lotta politica riprendeva e si consolidavano le rinate organizzazioni di partito, l'avversione al re cresceva nello schieramento antifascista. Il CLN di Roma si assunse la responsabilità di una presa di posizione che non lasciava dubbi con una declarazione del 16 ottobre, giunta però a Napoli all'inizio di novembre, che diceva che la guerra di liberazione, primo compito e necessità suprema della riscossa nazionale, richiede la realizzazione di una sincera ed operante unità spirituale del paese e che questo non può farsi sotto legida dell'attuale governo costituito da re e da Badoglio, che deve essere promossa la costituzione di un governo straordinario che sia l'espressione di quelle forze politiche, le quali hanno costantemente lottato contro la dittatura fascista e fino dal settembre 1939 si sono schierate contro la guerra fascista. Badoglio dovette in definitiva rassegnarsi a completare il suo governo, non si dimentiche che tutti i ministri tranne i due erano stati abbandonati a Roma al momento della fuga, e questa è una cosa gravissima. Con figure di secondo piano, per lo più con un passato decisamente fascista scelte in parte dall'ambiente di corte, e questo è anche peggio. Il cosiddetto governo dei sottosegretari, i suoi membri ebbero solo questo grado per sottolineare la continuità con il governo dei 45 giorni, i cui ministri erano ancora considerati in carica anche se rimasti a Roma, fu installato il 13 novembre ed ebbe vita stentata per la mancanza di poteri reali e di peso politico, rappresentando di fatto uno spostamento a destra del Regno del Sud, come se sentisse la mancanza. In sostanza la prima fase del Regno del Sud si chiudeva con uno scacco della politica di Badoglio, che pur dimostrandosi più duttile ed esperto di Vittorio Emanuele, non era riuscito a rompere il suo isolamento e si trovava ancora legato alla corte e con un governo non rappresentativo. Bisogna del resto riconoscere che Badoglio si era impegnato relativamente poco nell'ampliamento del suo governo, evidentemente perché la sicurezza dell'appoggio anglo-americano gli faceva apparire inutili reali aperture alle forze politiche antifasciste. I suoi sondaggi furono infatti rivolti solo a singoli esponenti dell'antifascismo moderato, secondo una consumata tecnica verticistica, mentre invece lo sviluppo dell'attività politica e specie la riorganizzazione dei partiti veniva ostacolata in tutti i modi, cercando sostanzialmente di captare e cooptare personaggi così da essere più duttile la loro manovrabilità. La libertà di stampa ad esempio fu ripristinata solo il 30 ottobre e gli esponenti del fronte nazionale d'azione di Bari vennero a più riprese arrestati o ammoniti. Un bando emanato l'8 ottobre bloccò l'arruolamento dei volontari promosso dai partiti a Bari per l'organizzazione della lotta armata e l'interessamento di Badoglio ottenne dagli alleati un analogo provvedimento per il corpo di volontari creati a Napoli sotto gli auspici di Croce. Per dare un esempio della scarsa sensibilità di Badoglio per le più elementari esigenze di rinnovamento, si può ricordare che il questore di Bari che il 28 luglio aveva fatto sparare su una dimostrazione antifascista provocando 17 morti e 34 feriti, fu rimosto la sua carica solo in ottobre. Per non parlare poi di Roatta, questo è un elemento accessorio, ne abbiamo già parlato ma è anche sintomatico delle azioni draconiane espresse da Roatta nell'ultima settimana del luglio 43. Quindi mi sembra che seppur io possa non condividere alcune riflessioni di Rocha questa carrellata dell'esperienza di Badoglio a capo del governo del sud ci pone interessanti spunti. Poi ovviamente prosegui il paragrafo successivo da Brindisi a Salerno ma poi sarebbe troppo lungo. Però mi interessava perché avevo trovato questo brano particolarmente calzante e particolarmente affine alle letture che abbiamo fatto nelle ultime settimane dei diari di Puntoni e di Roatta. Quindi tornando a noi io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima con altri interessanti spunti, letture, considerazioni e anche i vostri commenti. Ciao!